Bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come Miriana Trevisan al momento è single. Dopo la sua esperienza al grande fratello Vip si sta godendo un po' di vacanze in attesa della nuova stagione. Ed in una nota località la showgirl ha incontrato nuovamente lui. Appena ha postato la foto che lo raffigurava, i fan hanno ricominciato a sognare. Cosa è lui chi è? Una stagione che l'ha vista riconquistare l'affetto del pubblico grazie alla sua partecipazione al grande fratello Vip 6. Un'esperienza dove le luci si sono affiancate alle ombre. Una storia nata all'interno della casa che sembrava potesse regalare qualcosa di importante. Invece non è stato così. Ed in questi giorni d'estate Miriana Trevisan si sta godendo le sue vacanze, magari anche per dimenticare quella breve parentesi affettiva, nata all'interno della casa più spiata d'Italia, che ha lasciato sicuramente qualche doloroso strascico nel cuore della showgirl. E proprio durante le sue vacanze Miriana Trevisan ha postato una foto di un uomo che ha riacceso vecchi entusiasmi tra i suoi fan. Chi è l'uomo misterioso di Miriana Trevisan? Miriana Trevisan, i suoi amori. Nella casa del grande fratello Vip 6 la showgirl napoletana ha vissuto un'intensa, quanto breve, storia d'amore con Biagio Danelli. Una storia di cui non rinnega assolutamente nulla come raccontato nel salotto di Verissimo, a Silvia Toffanin, non mi pento di nulla di quello che ho fatto. Quando è entrato nella casa non lo conoscevo. Mi sono lasciata andare, tra noi c'era attrazione fisica, ma soprattutto mentale, queste alcune delle sue parole confessate alla Toffanin e riportate da il sussidiario. Net.Forse mai, come in questo momento, le vacanze d'estate possono aiutare a liberarsi dai pensieri angosciosi e, forse, a ripensare a storie passate. Come potrebbe far pensare la pubblicazione di una foto da parte della showgirl napoletana? Ritrae un uomo, non propriamente un uomo qualsiasi, ma una persona che ha avuto la sua grande importanza nella vita passata di Miriana Trevisan. Chi? L'uomo del passato. Sicuramente nella storia sentimentale di Miriana Trevisan vi è un uomo che più di altri è stato importante e non soltanto perché era diventato suo marito. Quasi vent'anni fa, nel mese di giugno del 2003, la showgirl napoletana ha sposato Pacifico Settembre, in arte pavo. Dal loro matrimonio è nato un figlio, Nicola. Purtroppo, dopo dieci anni, il matrimonio è naufragato ed i due hanno deciso di separarsi. I loro rapporti sono buoni, anche perché hanno un figlio da crescere insieme, anche se da separati. Ma, tornando alla foto dell'uomo pubblicata da Miriana Trevisan durante le sue vacanze, chi raffigura? Esattamente lui, Pago. Sono insieme a Forte dei Marmi. Ed ecco che i tanti fan della coppia hanno ripreso a sognare. Torneranno insieme? Al momento la risposta è decisamente no, ma come ci ha insegnato l'eterno James Bond, mai dire mai. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao.